E' stato quantificato in 8 milioni e 170 mila euro il bottino dell'assalto all'HV della Società di Trasporto Valori Sicur Transport avvenuto domenica sera a Catanzaro. A fornire alla squadra mobile il dato definitivo del contante rapinato sono stati gli addetti della Società di Trasporto Valori una volta completate le verifiche di conteggi. La somma rapinata era composta in gran parte dal denaro in contante che la Sicur Transport teneva in custodia per conto di alcuni istituti di credito. La restante parte era rappresentata dagli incassi di alcuni commercianti che avevano consegnato alla Sicur Transport il contante da depositare in banca il lunedì mattina. Nessuna delle banconote rapinate era segnata, il bottino dunque è interamente spendibile dai rapinatori. Gli investigatori hanno trovato le automobili utilizzate dal commando di rapinatori per fuggire. Le vetture erano state abbandonate sulle sponde di un fiume poco distante dal punto in cui si trova il cavò assaltato dai banditi.